Per esempio c'è stato chiesto da alcuni utenti che sono interessati anche alla conoscenza dell'analisi chimica dell'acqua, quindi voi cosa farete? Ma allora qui è molto molto semplice, la filosofia di questi punti acqua è una, vale a dire sponsorizzare l'acqua del comune, quindi la già buona acqua potabile dell'amministrazione pubblica. Questo che cosa vuol dire? Che se non ci sono situazioni particolari e di norma non ci sono situazioni particolari, l'acqua non viene toccata a livello chimico, questo vuol dire che le caratteristiche chimiche le esporrà l'amministrazione comunale perché quelle sono naturalmente. Che cosa fa il punto acqua? Ovviamente migliora la qualità dell'acqua perché qualcosa deve fare altrimenti ne andremo a prendere dal rubinetto e sarebbe uguale, quindi partiamo dal presupposto che l'acqua è buona, anche quella del rubinetto e va bene. Qui cosa facciamo? La microfiltriamo, la decloriamo, andiamo a togliere il cloro, ricordo tutti che il cloro ci deve essere per forza di cose, però è quello che dà un cattivo sapore all'acqua. La andiamo a sterilizzare perché una volta tolto il cloro l'acqua va sterilizzata per forza di cose, la andiamo a raffreddare, questo è un servizio in più e se necessario il cittadino sceglierà di prendere la gasata, quella diventa un'opzione del cittadino. Ma l'analisi chimica è parte dell'amministrazione pubblica o comunque del gestore dell'acqua. Io faccio parte del gruppo di acquisto solidale di malnate del gas e noi siamo stati fra gli sponsor che hanno sollecitato il comune che ha aderito prontissimamente all'installazione di questa casetta dell'acqua. E' perché siamo convinti che bisogna cercare per proteggere la nostra salute di abbassare notevolmente il livello di inquinamento dell'ambiente e sappiamo che la plastica sia per il processo di produzione, insomma tutto quello che sappiamo tutti, dobbiamo cercare di evitarla. E quindi penso che le persone, gli utenti che verranno a prelevare quest'acqua dovrebbero usare bottiglie di vetro. Pensando agli altri distributori del latte per esempio, che mi sembra hanno a disposizione delle bottiglie di vetro. In alcuni casi voi installate anche questi contenitori che poi saranno riusati da chi eventualmente li acquista la prima volta o non vi è mai capitato? Allora ci abbiamo pensato, ovviamente per noi diventa semplice aggiungere un modulo che eroga bottiglie di vetro. Ricordo che i distributori del latte erogano sia bottiglie di plastica che bottiglie di vetro. Noi visto la filosofia iniziale, gioco forza dobbiamo erogare solo bottiglie di vetro. Abbiamo però visto che in molti comuni ci sono le casette del latte, abbiamo anche visto che molti cittadini se ne approvvigionano per prendere le bottiglie. A questo punto abbiamo pensato, proviamo a non installare distributori di bottiglie perché le persone magari dicono, vabbè la bottiglia l'acquisto presso il distributore del latte e la utilizzo anche per prendere l'acqua. Questo è stato un pochettino, ad oggi la stiamo pensando così insomma, ma crediamo che in linea di massima ci abbiamo anche sempre visto giusto. Anche perché in alcuni punti casetta del latte e dell'acqua non sono distanti, quindi ci sembra un po' ridondante vendere bottiglie a 20 metri, a 50 metri di distanza. Non lo vogliamo fare. Questo è il motivo per cui ad oggi non vendiamo le bottiglie. Va bene, le ringrazio signor. Roberto Pozzoni. Grazie mille, buongiorno. Grazie. D'inverno con le temperature sotto zero influisce in qualche modo sull'erogazione di questi prodotti? No, no, no assolutamente perché la struttura è all'interno ben coinventata e per il caldo e per il freddo, che il problema al contrario potrebbe essere anche il caldo. No, non abbiamo problemi né di caldo né di freddo, neanche con temperature diciamo decisamente sotto zero.